Buongiorno a tutti, buongiorno per questo appuntamento prestigioso, affascinante, emozionante. I campionati mondiali di apnea e noto binnato in programma in questi giorni al Lignano Sabbia d'Oro. Complimenti all'organizzazione, ai volontari, alla Reservazione Italiana Pesca Sportiera e Attilità Subacque, al Presidente Matteoli, alle delegazioni che arrivano da quattro continenti, Europa, Africa, Asia e America. E' una competizione paralimpica, comunque affascinante in una dimensione, quella dell'acqua, nella quale tutti ci troviamo quasi sempre a nostro agio. Qui c'è anche il fascino appunto della competizione e c'è anche il fascino della qualificazione per i campionati mondiali che ad agosto saranno organizzati in Cina. Vuol dire che oltre alle medaglie che verranno messe a disposizione ci sarà anche quest'ulteriore viaggio, quest'ulteriore obiettivo da perseguire. Il grande augurio affettuoso ad atlete e atleti di queste due discipline, a atleti straordinari, speciali, paralimpici per tutte le forme di disabilità. Con il piacere di condividere la vostra gioia e il vostro senso di appartenenza alla grande famiglia sportiva. Ciao!